Rimettiamoci ai posti delle varie squadre, quindi Castelsepio, Venegano, Locate, Ronate, Abbiate e Gornate, dai! Dai che ci siamo! Siamo giunti alla fine della seconda edizione di Palio del Seprio, silenzio per favore, adesso proclamiamo i vincitori, partiremo a dire mini Palio e poi Palio e poi completo il vincitore. Allora, prima di tutto volevo ringraziare tutti i paesi che hanno partecipato, tutti i bambini, tutte le persone che hanno partecipato nell'ombra, cioè tutti quelli che ci hanno aiutato con i sacchi, ci avete aiutato a trasportare le gomme, tutti quelli che vanno prestato il megafono, grazie Dori, ok? Poi, voglio ringraziare i miei referenti, Matteo Cremona e Matteo Batini, voglio ringraziare soprattutto il Comitato, voglio ringraziare Giovanni di Castelseprio, Alessandro Erolando di Gornate, Antonella di Lonote, Michele Desi, Michele Desi, Di Abbiate, Lele Filocate, Le ho detti tutti, vi ringrazio tutti, Allora, se ci fosse stato qua Marco, penso che sarebbe stato orgoglioso di noi anche come Comitato, ci siamo sempre trovati d'accordo, sempre, adesso, in teoria, doveva esserci Marco, avrei dovuto passare il testimone a Marco, la prima cosa, Marco avrebbe voluto premiare il Comitato, lo passo il testimone e poi anche tutta la premiazione a sua moglie, che nonostante il marito sta male, è qua e sta continuando a finire il palio, brava, 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 adesso stiamo premiando solo il Comitato, va bene? brava, brava, allora, Giovanni di Castelseprio, vai Giovanni, Alessandro di Gornate, vai Alessandro, Antonella di Lonate, vai Antonella, Emanuele di Locate, Emanuele l'arbitro, Rolando, vai Rolando, vai Rolando, e la Monica di Veradona, vai Monica, e Michela di Abbiate, vai Michela, bravi, Allora, mi sentite? Sì, Devo tenerlo attaccato alla doppia, Mi sentite? Sì, Allora, Mini Paglio, Sesto posto, Abbiate con 205 ponti, Castelseprio con 235 ponti, Terzo e quarto posto a pari merito, 間a a pari merito, Donate специalti, Gornate Locate con 105 ponti! Gornate Locate con 10-109 attiva! Decorate posto, Venegono...? Quando accende 95 punti Prima è posto La nata 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 Quinto posto Con 585 punti Locate La nata La nata La nata La nata La nata Quarto posto Con 622,5 punti Gornate Terzo posto Con 672,5 Castel Castel Stemple Prima posta con 825 punti Prima posta con 825 punti Prima posta con 785 punti Prima posta con 825 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 punti Grazie a tutti! 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 Vai! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vai! 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 Grazie a tutti! La bambina è! La bambina! La bambina è! È il giovanotto lì per terra! Grande colozio! vai bravi bravissime vai bravo e vai guardatevi qua vai riccardo vai bravi bravi ragazzi grazie